Abbiamo fatto credo una buona partita, l'errore che abbiamo commesso è di iniziare a gestire più la palla 20 minuti alla fine troppo presto, anziché continuare a giocare per chiuderla, siamo stati ingenui in questo senso, però credo che fino a quel punto la squadra ha fatto una gran partita, dall'inizio abbiamo cercato di giocare per l'Ice con grande personalità, siamo tornati a essere la squadra che eravamo, prima del mese brutto che abbiamo avuto tra novembre e dicembre, iniziando a giocare da dietro, l'inserimento, il ritorno di Manfredini si era notato perché abbiamo iniziato a giocare da dietro perché lui è una guida per gli altri e purtroppo l'abbiamo perso un'altra volta, questa è la cosa che mi rammarica di più rispetto al risultato, perché potevamo anche perdere, però perdere un miglioratore così dispiace molto, prima di tutto a livello umano.